Vocazione, il sogno della vita, San Giuseppe, cuore di padre, è stato il tema della veglia vocazionale di Ocesana, organizzata dal Centro Diocesano Vocazioni, domenica 25 aprile in modalità online, in occasione della 58esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Dopo l'introduzione di Don Steven Carboni, direttore del Centro Diocesano Vocazioni, che si è soffermato sul titolo della veglia, il canto iniziale e la compieta, la parola al nostro Vescovo Armando per la riflessione sulla giornata. Quest'anno Papa Francesco, riprendendo il messaggio per l'anno dedicato a San Giuseppe, ci offre un titolo affascinante, non c'è fede senza rischio, vocazione andare oltre. San Giuseppe ci insegna ad affidarci a Dio per diventare veri capolavori. La chiamata divina spinge sempre a uscire, a donarsi e ad andare oltre. Solo abbandonandoci fiduciosamente alla grazia, come ha fatto San Giuseppe, mettendo da parte i propri programmi e le proprie comodità, si dice davvero sì a Dio. Il Vescovo citando Papa Francesco si è soffermato sulla vita di San Giuseppe, e modello di tutte le vocazioni, che sono chiamate a essere le mani operose del padre per i suoi figli e le sue figlie. Ha concluso la sua riflessione con l'augurio che ci siano ancora testimoni che sappiano di radio, ecco, mandami. Intense le testimonianze di Giovanni Berardi, della parrocchia di Saltare, di suo fratello Giuseppe e della famiglia Paolina. La figura di San Giuseppe ha messo in evidenza Giovanni, è l'emblema di come essere padre, è un'interpretazione dei messaggi che il Signore ci lascia liberi di comprendere. Qualcuno con la Q maiuscola ha la capacità di renderci felici e di andare oltre i nostri sogni, e io nella mia vita l'ho sperimentato. San Giuseppe, ha sottolineato Giuseppe Berardi, mi insegna ogni giorno ad accogliere la realtà come lui l'ha ricevuta. Paternità è anche questo, accogliere e restituire, essere un cuore che sa donare.